Si è parlato tanto di liste d'attesa, soprattutto dopo l'intervento del Presidente della Regione Renato Schifani. Qual è la situazione a Trapani? La situazione all'aspetto di Trapani è una situazione, dico molto buona, devo essere sincero perché avevamo già colto e lavorato già nell'anno precedente l'abbattimento di liste d'attesa. I numeri lo dicono tutto, quello che stiamo facendo su prestazioni che sono 37.560 fino al 30 agosto del 2023, ad oggi abbiamo solo ed esclusivamente 1.609 prestazioni di erogare. Tutte le altre sono state o erogate e sono 28.000 e passa, oppure sono state disdettate da parte delle persone che avevano prenotato o non si sono presentate direttamente alle visite. Quindi abbiamo un gap di 1.609 su 37.000, quindi capite che già il lavoro grosso è stato tutto espletato. Abbiamo colto sicuramente l'opportunità che ci ha dato il Presidente Schifani per annullare totalmente quelle sono liste d'attesa, soprattutto su determinate specialistiche dove avevamo un po' di arretrato. Abbiamo chiesto e sensibilizzato ai nostri professionisti, sia ospedalieri che gli specialisti convenzionati, che hanno dato a loro disponibilità, quindi al 31 dicembre del 2023 non solo annulleremo tutte le liste d'attesa relative al 2022, ma anche quelle relative all'anno in corso. Un'altra criticità sono le cure palliative. In una recente intervista il Dirigente Generale, Salvatore Iacolino, è intervenuto su questo tema perché sempre più spesso, soprattutto in alcune province, ai malati terminali vengono negate le cure palliative e ai pazienti viene assegnato impropriamente l'adi geriatrico. Su questo anche Trapani sembra avere qualche problema. Siete intervenuti o come pensate di intervenire per risolvere questa anomalia? Siamo già intervenuti e stiamo continuando ad intervenire perché stiamo sensibilizzati alle nostre unità di valutazione medica a considerare effettivamente quali sono le reali esigenze da parte del paziente relative alle prestazioni. Se sono delle prestazioni legate effettivamente ad una fase geriatrica oppure devono essere più spinte, come in questo caso in cui sono cure palliative. Abbiamo a che fare anche ovviamente con un budget che è molto limitato. Abbiamo chiesto alla Regione già in precedenza, in sede di contrattazione del precedente budget, di aumentarci le disponibilità economiche proprio per dare la possibilità di poter accogliere tutte le istanze che ci arrivano. Ma non sempre siamo nelle condizioni proprio per limiti di budget di poterle fare. Però ci stiamo lavorando molto, stiamo cercando di trovare anche delle risorse all'interno del bilancio aziendale senza chiedere null'altro alla Regione, ma non è una cosa semplicissima. Però vi posso dire che ci stiamo lavorando e che sicuramente a brevissimi risultati si vedranno.